Una vittoria fondamentale quella del Brescia Calcio femminile oggi a Tavagnacco perché questa vittoria mister significa di fatto chiaramente la matematica non ci dà ancora la sicurezza ma è un'ipoteca per la qualificazione in Champions. Sì abbiamo fatto una grandissima prestazione a merito delle ragazze e chapeau perché non era facile venire a giocare su un campo difficile così fare sei gol di ottima fattura di grande qualità quindi il merito è assolutamente da attribuire a loro perché mi stanno dimostrando sempre come lo dico giorno dopo giorno che questa squadra è in forte crescita è normale che ci siano dei cali sul 4-0 poi abbiamo un po mollato e abbiamo preso questi due gol il rigore diciamo è mezzo regalato l'altro abbiamo preso un po una sbandata dietro però va bene va bene perché poi c'è stata subito la reazione con gli altri due nostri gol e questo fa piacere perché non era una partita facile adesso abbiamo messo come detto te a 14 punti sia il ignaco che la fiorentina però dobbiamo continuare perché come hai detto giustamente non c'è ancora la matematica e dobbiamo continuare adesso abbiamo già subito mercoledì un turno importante contro l'inter una partita molto sentita e cercheremo di passare il turno perché vogliamo rimanere anche nella competizione della coppa italia in questa situazione qual è il pericolo più grande secondo lei più mentale o fisico continuare a tenere botta la juventus che non si ferma vabbè un po tutte e due però ci fa piacere essere lì ci abbiamo preso gusto le ragazze quando vanno in campo si divertono e questo deve essere lo spirito nel venire qua sul pullman le ragazze che sono delle giocherellone giusto così che si concentrino ridendo scherzando ero anch'io così da giocatore io in musulino a me non piacevano quindi prima della partita mi caricavo con la musica o ridendo scherzando e questo qua ho cercato di trasmetterlo anche a loro e loro lo stanno facendo molto bene e poi ci danno ci ci fanno vedere questi tipi di prestazione che sono fantastici grazie mister grazie a voi protagonista di questa bellissima importantissima vittoria del brescia calcio femminile oggi è tavagnacco valentina giacinti allora valentina oggi come aveva detto il mister alla vigilia era fondamentale e vincere questa partita per chiudere o quantomeno virtualmente chiudere il discorso champions oggi siete soddisfatte di questa prestazione sì siamo soddisfatte per il primo tempo perché abbiamo chiuso subito la partita ci sono state delle sbavature al secondo inizio secondo tempo che ci hanno messo un attimo in difficoltà però poi siamo riuscite alla grande erano fondamentali questi punti siamo contenti averli portati a casa anche climaticamente nella semplice tempo ventoso freddo insomma c'erano tutti gli ingredienti per una partita molto più difficile di quella che poi è risultata nel 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 punteggio finale sì sappiamo che a tavagnacco è dura e il campo e comunque la squadra è molto aggressiva abbiamo fatto il nostro gioco abbiamo giocato senza pensare a tanti problemi e è uscito il nostro brescia e siamo contenti per questo la matematica ancora non ci dà la garanzia però forse adesso lo possiamo dire una qualificazione champions a inizio stagione era più che ambita oggi forse avete messo gli artigli da leonesse su questo traguardo importantissimo sì sicuramente era uno degli obiettivi a inizio anno il raggiungimento in champion e la supercoppa Italia e provare a vincere lo scudetto credo che questa squadra sia in linea con tutti gli obiettivi mettere una serie ipoteca al secondo posto oggi era fondamentale come era fondamentale non perdere la rincorso la Juve abbiamo fatto una grande prova e questo dimostra che questo brescia c'è mercoledì ci sarà un turno di coppa Italia che sarà anche un po' una sorta di antipasto possibile antipasto di una partita di serie A dell'anno prossimo contro l'Inter come come la vivrete vista anche la vittoria di oggi al meglio penso ma con tutta serenità la coppa Italia è un obiettivo molto importante ci tiriamo molto anche perché se dovessimo poi passare il turno avremo la Juventus quindi quindi la affronteremo con una parte di campionato e speriamo che ci sia un po' di pubblico nel nostro club azzurri visto che poi ci ritorneremo a marzo e niente speriamo speriamo di far bene grazie Cristiana grazie a te grazie a te